Amici di Sport Today, eccoci qua anche per quest'oggi. Parliamo di una squadra ritrovata. Il mondo è quello del basket, lo capite anche dalla foto al mio fianco. La squadra ritrovata è quella di Sasseri e il giocatore ritrovato è questo signore, David Logan. 40 anni, per quelli che non seguono il basket avete capito bene, 40 anni, gioca come ne avesse 25. Lui e i suoi compagni sono tornati perché Sasseri, che ricordiamo ha segnato il basket con uno scudetto nel 2015, una finale ormai tre anni fa dopo aver battuto Milano in semifinale con un secco 3-0, finale poi persa con Venezia, si era un po' persa per strada Sasseri, già l'anno scorso ma soprattutto quest'anno, sembrava addirittura non dover andare ai playoff. Poi le cose, dopo un primo mese e mezzo di disorientamento, hanno cominciato a mutare. Intanto perché? Perché Sasseri ha preso un allenatore vero, un allenatore che è capace di mettere le cose al loro posto, come Piero Bucchi. Piero Bucchi ha cominciato a lavorare bene, con calma, la società lo ha aiutato, piano piano ci sono stati dei rientri, come Filip Kruslin, il croato, la guerra croata che era già l'anno scorso a Sasseri, e tornato ultimamente anche Miro Bilan, il centro, croato anche lui, che giocava nel Prometheus in Ucraina, dove ovviamente non poteva restare. Con questi due giocatori, con l'aggiunta di Robinson, che lo stesso Bucchi ha voluto perché l'aveva avuto a Roma, Robinson che l'anno scorso ha fatto una piccola fortuna per qualche mese, di Pesaro, con questi giocatori, uniti a tutti quelli che erano già in Sardegna, Sasseri piano piano ha cominciato a ritrovarsi, ha cominciato a capire che poteva anche giocarsela per i piani alti della classifica, attualmente dopo la vittoria, della quale parleremo fra un attimo, con Milano è al quarto posto. Questo signore, ripeto, 40 anni, era in squadra anche nell'anno del triplete, l'anno dello scudetto del 2015, dove Sassi era vinto tutto quello che poteva nell'arco del basket italiano. Questo signore ha fatto otto tiri da tre punti, 25 punti in totale, il suo massimo in carriera è guagliato per i tiri realizzati da tre punti, sto parlando di David Logan, con lui tutti gli altri hanno cominciato a giocare, con un centro di riferimento come Bilan le cose sono cambiate e ne ha pagato le conseguenze di tutto questo una grande squadra come Milano. Milano, che è la favorita con Bologna per vincere lo scudetto, ha subito il tiro da tre nei primi due quarti di Sasseri, se andate a vedere le statistiche Sasseri ha tirato col 68% nei primi 20 minuti, poi la partita è diventata punto a punto nel finale con Sasseri che l'ha risolta proprio con quel Robinson, quel Gerard Robinson che Bucchi ha voluto tra le altre cose in Sardegna. E adesso? Adesso staremo a vedere, sicuramente il campionato ha recuperato una forza importante, aspettiamo anche Venezia, vedremo Brindisi che mi sa che sta facendo un po' più fatica del previsto, però comunque Milano, Bologna, Brescia, Sasseri, Venezia più tutte le altre che potrebbero anche affacciarsi in un'ultima Varese ci portano verso un play-off che sarà sicuramente interessante e se lo sarà lo dovremo in parte anche appunto alla Dinamo Sasseri.